E' tornato tra le vie di Cortina il pesciolino rosso. Cortina Metraggio ha rinnovato il suo marchio riportando in primo piano il pesce più noto del cinema in corto. Maddalena Maineri, ideatrice ed organizzatrice del festival, ha srotolato le novità della quinta edizione. Questo white carpet sarà veramente ricco di ospiti. Con la giuria che abbiamo creato quest'anno anche noi di Cortina, mi auguro proprio che Cortina la viva questo festival a 360 gradi. Nuove collaborazioni e sinergie per quest'edizione 2014, come quella nata con la Galleria Contini, che omaggerà Cortina Metraggio con un'opera di Enrico Ghinato. Mi piacciono molto queste iniziative e mi è piaciuto partecipare. Ho fatto questo spezzone di pellicola con il marchio di Cortina Metraggio. Vi ricordo che è tutto quanto a titolo totalmente gratuito e vi potrete godere un 2-3 ore di cinema divertente, allegro, con tante belle novità insieme a tutti noi del mondo del cinema. Per la sezione Corti Comedy ecco svelato un primo corto in gara, la Bui Bess, che inevitabilmente per suo stile comico e leggero ha già saputo strappare qualche risata tra il pubblico.